Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Sono rientrato a casa dopo la doppia trasferta a Torino-Milano, quindi per Juventus-Siviglia e Inter-Juve di YouTuber League, poi vedrete tutto quello che è accaduto nel video del buon Federico Marconi. Io vi devo anche chiedere scusa però per un motivo, e cioè sono arrivato leggermente in ritardo. Ero convinto che la conferenza fosse alle 14.30, stamattina quando ho controllato mi era venuto in mente 14.30, invece era alle 14, quindi me la sono vista con 30 minuti di ritardo. Cambia poco e niente, e in questo sabato pomeriggio cerchiamo di fare un attimino il punto della situazione per quanto riguarda la partita di domani. Vi faccio subito una domanda, io vi risponderò nel corso del video quanto state attendendo questo Juventus-Cremonese. Iniziamo. Non dobbiamo pensare se la Cremonese fosse, dando per scontato Allegri retrocesso e robe del genere, tra l'altro nel giro di ritorno sarebbe Salva più 3. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro, ha raggiunto ottimi risultati. È una squadra che subisce poco e in contropiede è pericolosa. Sono le partite più pericolose, serve tanto rispetto per gli avversari perché nessuno ti regala niente e bisogna vincere sul campo. Inutile parlare prima o dopo, perché sennò ci facciamo del male. Siamo, in vista anche di giovedì, che è una partita importante tanto quanto quella con la Cremonese di domani. Quindi Allegri mette già un focus. Sì, c'è giovedì, però prima c'è domenica. E lato allenatore, lato squadra è assolutamente il messaggio che deve passare. Cento, cento per cento. Ripeto, poi vi dico la mia. La Juventus, stiamo facendo un buon lavoro e bisogna continuare a far crescere i calciatori, i giocatori più giovani. Serve esperienza e questa si acquisisce soltanto giocando. Siamo secondi in classifica e questo, diciamo, inizio campionato, per come sono andate le cose era difficile. Io immagino per come sono andate le cose all'inizio sul campo, cioè male, e poi per l'extracampo, cioè male. Quindi credo che Allegri faccia un'analisi di questo tipo e non è difficile essere secondi perché inizio campionato ci aspettano di peggio. Quello sarebbe deleterio, quindi credo che sia un'analisi per quanto riguarda quello che avevamo visto all'inizio e quello che è venuto dopo. Serve consolidare e fare un passettino in avanti nelle ultime quattro. Sia a 18, sia a 35 anni, poi uno deve venire al campo per migliorare. Poi si smette un altro discorso, ma finché non smette deve volere il miglioramento. E questo è assolutamente vero. Domani gioca Peril, Bremer è a posto, Rabiot ha fatto differenziato come chi ha giocato tanto. Non tutti sono quelli che hanno giocato tante partite. Domani poi sarà a disposizione sicuramente. E domani dobbiamo pensare alla partita di domani. È la più importante, è la più vicina, è la cremonese. Sarà difficile da battere, però dobbiamo batterla. Ve lo dico, a me in questo momento di Juventus cremonese non importa niente. Niente. Ma mica solo perché poi andiamo a giocarci Sevilla-Juventus, eh? Non me ne importa niente. Perché so che queste ultime quattro partite di campionato poi, in un modo o nell'altro, potrebbero essere completamente inutili. Sono utili soltanto allo spettacolo. Cioè a vedere 90 minuti, ma senza finalizzarla, a un obiettivo da raggiungere. Perché sappiamo bene quello che poi accadrà tra qualche settimana, il 22 di maggio. Quindi sinceramente in questo momento pensare a una partita di Serie A mi mette soltanto tristezza e angoscia. Mi svuota questa cosa. Poi la guarderemo, 100%. Sono sicuro che quando inizierà la partita, quando ci sarà il fischio d'inizio, entrerò nel mood della partita. Perché poi quando gioca la Juve, io voglio vedere la Juve giocare. Però in questo momento, devo essere onesto con voi, con me stesso in primis, non è una mia priorità. Non è una cosa per la quale muoio. Invece pensare all'Europa League, eh beh, quello sì. Infatti pensare che l'Europa League potrebbe essere anche l'ultima partita e poi arrivare a giocarci l'ultime tre del campionato in maniera così anonima, ancora con zero titoli, beh, sarebbe veramente triste. Molto triste. Quindi è logico che io sia costretto a dirvi queste cose. È logico che per lavoro sia costretto anche, tra virgolette, ma è sempre un piacere in realtà mettermi qui a registrare e guardare la partita insieme a voi. Però sulla carta, Cremonese-Juventus e di quello che è le ultime quattro partite di Serie A, non è che mi importa poco, mi importa niente. Perché so benissimo che cosa accadrà dopo. Paul sta crescendo di condizione. Ecco, utilizziamo queste partite per migliorare la condizione dei calciatori sperando di arrivare a giocare a finale di Europa League. Quindi Paul sta crescendo di condizione. Ha fatto 25 minuti bene. Soprattutto quando arriva nella metà campo avversaria, lui è ancora straordinario. Ha bisogno di giocare tante partite per trovare la condizione. Lo sa anche lui, ne abbiamo già parlato tante volte. In questo momento deve essere a disposizione per un tempo, 20 minuti o mezz'ora. Anche perché giocando ogni tre giorni è difficile che possa recuperare dopo ogni partita. L'altro giorno Pogba ha fatto una ventina di minuti, sì. Quindi io non so se è pronto o non pronto, io non credo, per giocare titolare. Né domani con la Cremonese, né giovedì con il Siviglia. Quindi quello che penso di Pogba è facciamogli fare altri 20-25 minuti domani con la Cremonese per fargli mettere ancora nel motore questi minuti. Anche perché se arrivi a far giocare Pogba adesso il rischio è veramente alto dell'infortunio. E poi se non si fa male oggi, maggior ragione uno come Pogba, che è un giuriprone e l'abbiamo visto in questa stagione, è stato praticamente fuori sempre, non è sicuramente la migliore delle prospettive. Quindi se proprio dobbiamo cercare di migliorare la condizione, facciamolo con cognizione di causa, e cioè senza buttare i giocatori nella mischia. Ma penso che Allegri da questo punto di vista abbia ben chiara la situazione. Infatti Pogba non è mai partito titolare, infatti Pogba non ha mai avuto degli ispezioni di partita superiori a 25-30 minuti. Qualcosa di simile, forse qualcosa di più in qualche occasione, ma veramente rara e sporadica. Il morale è buono, anzi è ottimo. Dopo il gol, alla fine con il Sevilla è ancora più buono. Ci dà la possibilità di andare a giocare una semifinale alla pari. Il nostro obiettivo in campionato è arrivare nelle prime quattro. Guarda difendere il secondo posto, dato che siamo lì. Noi pensiamo al campo, invece alle cose esterne. Non possiamo farci niente. Però credo che Allegri debba per forza di cose dire noi pensiamo al campo, la partita cremonese è importantissima. Queste sono cose sacrosante, anzi sarebbe grave il contrario da parte della notte della Juventus. Dire l'opposto. È logico che Allegri dica queste cose qua. Bisogna vedere quanto è impermeabile questa cosa però, perché le vicende esterne secondo me influiscono e non poco sul morale della squadra. Queste robe arrivano matematicamente al 100%, anche all'orecchio dei giocatori della Juve. Sanno bene in questo momento poi che si sta programmando il futuro, che cosa fare, chi resta, chi va, cosa succede. Queste cose si fanno molto pesanti e queste quattro partite di Serie A secondo me ci daranno anche un po' il termometro, ci misureranno la temperatura, ci faranno capire quello che succederà un po' con alcuni calciatori. E quindi, come faccio a dirvi? Poi se devo dire il morale è buono perché abbiamo fatto gol con Siviglia al 96esimo, beh, mister, il morale è buono perché è meglio un 1-1 che perdere 1-0. Però la partita con Siviglia di giovedì non può aver alzato il morale, eh. Non può essere una partita calza morale quella. Che ne sta molto bene ora, è tornato in buona condizione, nel momento migliore ha fatto con l'ingenuità a Roma, lo ricorderete tutti, poi si è infortunato, è a disposizione ed è una risorsa, su cui conto molto, beh, nelle ultime partite. Diciamo che dopo quel gol, vittoria 1-0, lei la sverona, Moise Ken non si è praticamente mai più visto. Ci dà energia il fatto di dover fare una cosa importante a livello mentale dopo un'annata così. Non ci siamo mai lamentati di arbitri e robe anche su fatti oggettivi. Noi pensiamo al campo senza sprecare energie importanti. La squadra contro il Siviglia negli ultimi sei minuti è stata molto brava a gestire la palla e a cercare con velocità calma e tecnica la soluzione migliore per pareggiare. La squadra è stata molto matura in tutte le cose che succedono e quest'anno ah, scusate, è poi arrivato su angolo ma l'episodio di Rabiot sull'episodio di Rabiot si poteva rischiare addirittura il 2-0. La squadra è stata molto matura in tutte le cose che ci succedono e quest'anno ne sono successe parecchie. Abbiamo trasformato tutto in opportunità. Mancano 20 giorni e dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo raccogliere. Vi dico una sorta di cosa che ho pensato. L'anno scorso era lo stadium anche in occasione di Juventus-Villa Real. Quando perdiamo per 3-0 veniamo eliminati dalla Champions League. Una squadra che prende gol a 10 minuti dalla fine e quel gol rappresenta l'eliminazione dovrebbe con tutte le sue forze cercare di andare a pareggiarla il prima possibile per poi vincerla soprattutto se sia la Juventus soprattutto se giochi un ottavo di Champions League contro una squadra che è il Villareal soprattutto in questa occasione. L'anno scorso ci siamo sciolti come neve al sole non abbiamo avuto la forza e l'energia di andare a provare a pareggiarla infatti poi ne abbiamo presi altri due nei minuti finali e siamo usciti con un rotondo disastroso 3-0 per il Villareal. Con Siviglia abbiamo avuto secondo me la fortuna di prendere gol nel primo tempo perché se avessimo preso gol nei minuti finali anche quest'anno secondo me arriviamo nelle partite decisive in cui non abbiamo quel mordente non abbiamo quel carattere non abbiamo quella volontà a me sembra vedere una squadra che è tutt'altro che brava matura a cercare la soluzione migliore per pareggiare la Tresera abbiamo visto una squadra caotica una squadra poco tranquilla anche che possa essere ragioni extracampo sì può essere ma abbiamo visto la stessa cosa anche l'anno scorso in più di un'occasione in più di una competizione la Juventus dell'Allegribis è una squadra in due dimensioni è una squadra piatta è una squadra a tratti pure senza carattere il carattere che ho visto mettere ai ragazzi tra dicembre gennaio e febbraio è stata un exploit perché lì si è proprio vista una squadra che nonostante tutto scendeva in campo e ci metteva l'impegno ci metteva tutto per farsi volere bene oggi vedo una squadra stanca esausta spaisata confusa che non ha ben mente quale possa essere il piano gara una squadra che cambia partita dopo partita io non non vedo una Juve in buona condizione in questo finale di stagione ed è importantissimo arrivare in buona condizione nel finale di stagione soprattutto per le squadre che ambiscono a raggiungere obiettivi che possono essere obiettivi come la cremonese in permanenza in Serie A o come la Juventus di portarsi a casa una coppa quindi sì ci dà energia io questa energia non la sto vedendo purtroppo io non la sto vedendo e anche l'altro giorno allo stadio quel gol di Gatti è stato meraviglioso perché il gol della Juve all'ultimo secondo è meraviglioso soprattutto se si è allo stadio è meraviglioso però poi dopo la gioia la felicità l'emozione arriva al sentimento del si ma rega abbiamo solo pareggiato col Sevilla dopo una partita disastrosa e dopo abbiamo pure rischiato di andare a prendere degli altri in una partita ormai alla fine del campionato di una roba che ci rimane solo questa perché appunto le ultime quattro di Serie A è un bel chi se ne frega io questa energia non la vedo anche l'altro giorno vi dicevo allegri contro le squadre di tradizione europea in una determinata condizione con i dettagli con Sevilla non ha curato niente non ha curato niente anzi ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quindi sono molto demotivato da Juventus-Sivilla sono molto demotivato tra l'altro leggevo oggi mi dispiace tanto che un signore è morto dentro lo stadio durante la partita e io purtroppo ho visto perché a un certo punto tutta la tribuna est io ero in tribuna est secondo anello ha iniziato a girarsi verso l'ultima l'ultima fila di seggiolini e ho intravisto con la coda dell'occhio un arancione fluo di probabilmente un addetto di un paramedico di qualcuno legato all'ambulanza che stava eseguendo un massaggio cardiaco a una persona che era stata male quindi non ho visto direttamente perché comunque io ero praticamente all'inizio del secondo anello e loro erano alla fine però era nel mio settore e avevo avvertito che era successo qualcosa non immaginavo qualcosa di così grave e questo signore di 70 anni mi pare non ce l'ha fatta tra l'altro se ho capito bene un ingegnero comunque un architetto molto conosciuto nella zona del lago di Garda dispiace veramente tanto un abbraccio alla famiglia e sono cose terrificanti tremende cerchiamo di andare avanti perché parlare di queste cose non mi piace in questo momento dobbiamo solo pensare ad arrivare al 4 o 5 giugno dopo Udina arrivando in finale di Europa League e al secondo posto le altre decisioni sono della società sul futuro dal DS ai giocatori tutte cose che riguarda la società Allegri qua taglia corto e dico la verità è cambiata la linea comunicativa di Allegri è cambiata tanto perché da quando si inizia a parlare di giuntoli è molto secco preciso risposte brevi ma anche la conferenza l'altro giorno con il Sevilla ve l'avevo detto un Allegri che non fa tanti giri e parole un Allegri che non ha voglia di scherzare in questo momento un Allegri che va dritto al punto la domanda è questa ti rispondo in due minuti la conferenza è durata 11 minuti una roba del genere abbiamo quasi finito e ve l'ho letta e ve la sto analizzando abbiamo quasi finito non è successo niente queste ultime settimane sto vedendo proprio un Allegri diverso in conferenza stampa io non so perché però anche oggi non ha parlato del suo futuro parlato del futuro della Juventus che decide la società non lo so vediamo cosa succede perché questo è un piccolo indicatore ma mai quanto quello che poi ha utilizzato nel finale proprio sull'ultima domanda riguardante Bonucci perché ha detto per quanto riguarda la fine della carriera è una cosa personale dipende da come uno si sente o che cosa vuol fare Leo è intelligente e deciderà per bene suo anche perché un calciatore ha sempre due vite e nasce due volte ha raggiunto 500 partite con la Juventus traguardo storico e per pochi sono fiero ed orgoglioso di aver lavorato con lui in tutti questi anni anche tra tanti litigi e batti vecchi si è meritato tutte queste presenze anche con gli infortuni ci è sempre stato a lui è stato chiesto di giocare anche in un momento in cui non si era pronto e si è messo a disposizione per la squadra ne hanno dato 15-20 giorni prognosi siamo al limite per la finale o per la parte finale della stagione dove comunque potrà fare gruppo con la squadra quindi bene o male la stagione di Bonucci finita possiamo leggerlo in questo modo perché ne ha dato 15 giorni il limite che possa fare magari qualche minuto finale nell'ultima partita se mai ce ne possa essere l'opportunità l'occasione però bene o male credo che la partita della stagione di Bonucci sia finita e attenzione che non possa essere finita pure la carriera di Bonucci con la Juventus perché questo infortunio che lo priva di queste ultime cinque partite secche se poi sono sei tanto meglio è attenti attenti perché Allegret è una cosa importante ha parlato di che cosa uno vuol fare della seconda vita del calciatore avrebbe semplicemente potuto dire guardate Bonucci in questo momento è infortunato ha un altro anno di contratto con la Juventus o comunque è una cosa che riguarda lui ci penserà lui però questo discorso sembrava quasi una sorta di conclusione 500 partiti con la Juve è stato un piacere abbiamo lavorato tanti anni la carezza si è messa a disposizione della squadra comunque un calciatore nasce due volte non si sa che cosa si vuole fare in futuro a me quasi ha dato la sensazione che Allegret potesse essere a conoscenza di informazioni a noi non note e quindi magari ho parlato con Bonucci era il suo ultimo anno non ce la fa più e questo infortunio l'ha messo completamente KO e l'ha fatto uscire dai radar e quindi Bonucci potrebbe interrompere la sua carriera con la Juventus con 500 presenze precise precise non so se soltanto io ho avuto questa sensazione quindi rivolgo la domanda pure a voi e vi chiedo di analizzare queste ultime due domande perché due risposte di Allegri perché secondo me sono quelle dove si può cercare di scavare un pochettino per cercare di capire se si sono state degli spifferi inerenti appunto al futuro di allenatore e giocatore noi ragazzi ci vediamo domani con l'analisi pre partita di una partita ripeto che non sento in questo momento non sento poi magari domani con l'avvicinarsi della partita potrò sentire la mia testa ovviamente è già in Spagna in Andalusia ricordo bene se dovrebbe essere lì non andrò allo stadio questa volta quindi ci vediamo con tutte le live reaction sia per Juventus Cremonese sia per Sevilla Juve forza Juve fino alla fine questo sempre e comunque fatemi sapere se anche voi siete scarichi per la partita di domani per la partita di domani Grazie a tutti.